Buongiorno a tutti ragazzi, eccomi qua con la parte numero 5 Abbiamo tipo deforestato quella parte Infatti abbiamo quasi due stack di legno Però se facciamo il legno grezzo, cioè il legno raffinato Madonna cotone, quello è cotone vero? Credo di si Vabbè Raccogliamolo Tanto è molto figo Perché? Ah no, spazio Liberiamoci di cosa? Delle fracce Aspettate, mettiamo qua le fracce Perfetto Perfetto, che cazzo Ok, liberato Passiamo Che fichi si fiori Oe, rimetterò attorno Che bello, quello rosso Vediamo un po' Non lo raccogli, vediamo Peoni Fico Ok, perfetto Prendiamo un'altra di peoni Vediamo, questo è diverso da quell'altro Infatti E questo è Vediamo di cosa ci liberiamo Sì, si dà carbone Eh, ok Eh, ok Prendiamo un attimo queste uova Mi piacerebbe ripetarmi di qualcosa Ma Quest'asse di legno E le uova le ho prese Sì, ok No, sta per farsi sera Cazzo Uovo Osservate E anche quest'altro Allora, prendiamo l'uovo E Nasce un p No, che cazzo Quanti me ne ha spawnati Eh no, questa è una volta niente Niente fortuna Lol E Intanto dormiamo Che le nostre amiche galline si divertono Ok Prendiamoci il nostro bellissimo letto Eh Chiliamo Un paio di galline Questa è adulta Ah sì, beh Guardate la differenza Ok Mi ha dato Le piume Io voglio soprattutto le piume Perché Voglio fare Le frecce Eh Voglio più che altro le piume Eh ma vabbè Basta Andiamo avanti Chi se ne frega Eh Troviamo una pianura Fic Eh Piana Non Così Che cacchio è Cioè Che cazzo Non capisco un cazzo Che cazzo Ok Basta Dire far l'acce Perché sono bro Io sono bro E non posso dire far l'acce Che fico però Disposcherò quest'area Come al minimo Cioè Guardate che bello No io quest'area Non la tocco No Questa Area Non la tocco Proprio Non la tocco Non la tocco Non la tocco Da cavernola Che cazzo Ho visto un mostro Eh appunto Uno zombie Chi se ne frega No no Ma tranquillo amico Non ti voglio Nella mia Collezione Speriamo Cioè Speri un giorno Che mi spawni La testa Di un zombie Però Che lo sa Una volta Tipo ho giocato A minecraft Mille ore Neanche Se vuoi Che cazzo Perché c'è un alberi Al contrario Forse Forse Vaniglia E vabbè E ho un piccino di zecca Madonna santa Non Un porcio Un porcio Un porcio Lo kill E non mi ha Spawnato Non mi ha Lo si è spawnato Non mi ha Tra il cazzo Non mi ha Non mi ha Come si dice Blah Non mi ha Droppato niente Ecco Droppato Che cazzo Un alleviamento Di porci Aspettate Io ho questo E me ne porto Quindi Che cazzo Vai Che cazzo Vai Dai porcio Sono qua No I porci Non mangiano E le patate Ma neanche le patate Fotte sega Chi se ne frega Tanto Dai 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 Una corazza Per il cavallo Cazzo Non vedo l'ora Di farlo provare Al cavallo Che dovrò trovare Armatura Adoro Per il cavallo Che parola Ho trovato L'armatura Così Alla cazzo Di cane Beh dai Ho avuto Un culo No 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 Che lag è Questa roba Voglio fare Un parkour Lag Non può Non può Vabbè Capisco il motivo Del lag E' eccessivo Che io quando Perché quando gioco Da solo Senza fare video Non mi lagga Cos'è tanto E siamo già Al sesto minuto Praticamente Non abbiamo fatto niente E a tre camere spente Ho raccolto Due Ma che fico Che fico Che fico Io Guardate Io faccio Saltare Sta roba In aria Tipo Io voglio Faff Qua Da casa Sì sì Ho Ho 36 di TNT Mi è possibile Farlo Cioè Non ho neanche paura Di farlo Ok Aspettate Mi è partito Il video Della registrazione Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Ok Stavo per morire Stavo per morire Non è possibile Ragazzi Non posso Morire ogni stante Dissima volta Ok Cosa Aspettate Io sono qua pieno Usiamo sta lana Che non serve Un cazzo E raccogliamo Il ferro Che non si butta via Ok Usiamo il nostro Appunto Piccone di ferro Io sono pieno Di ferro Cioè Sono pieno Di tutto Solo che non c'ho Spazio Ok Buttiamo I se Perfetto Perfetto Mi ha preso Tutto Ok Sono stupido Sto usando Piccone di ferro Per esempio Per Perfetto Perfetto Ok Dove cazzo andavo Ah Sono caduto da Quindi stavo andando Di là Giusto Giusto Non sono andato Stato 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 Non mi ricordo E non mi ricordo Appunto di qui Ok Che fico E continuo Di qua Materiali Abbondanza Abbondanza La casa potrei farla con sotto No 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 Perché io ho anche un'altra idea Per la casa Quindi Preferirei fare un posto piano Senza Sti alberi Madonnosi Che cazzo Una calina a due teste Che cazzo What the fuck Ah no Mi sembrava strano Sì Se ci prendiamo anche i polli Farebbe Più comodo Riveliamoci De 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 Gli ossi Mi servono La porta Cazzo Nella craft Che cazzo Mi serve Ok Vamos Avanti E Sperando di trovare qualcosa di bello Cioè Che cazzo Ne so Una pianura Desolata Cioè Non desolata Vicino dagli alberi di quercia O di abete Abete Cioè Ti voi avete visto La legna di abete Raffinata È scurissima È scurissima E a me piace Userò questo contrasto chiaro scuro Se è possibile Che cazzo Bello Da far curare Sta roba Sì Non ho Non ho Car Non ho Cioè Vaffanculo Cioè Ho fam Allora Facciamo mangiare Il nostro PG Aspettate No Ma Vaffanculo Proprio Cioè Tipo Uppami La fava Ok Qui Non c'è un cazzo A parte sta gravel Però è fico Qua sotto Sarebbe un buon 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 punto Dove farlo Carbone Cazzo Mi troverò In caverna Maggior parte Dei video Saranno in caverna Appena trovo il posto Per la dimora E quindi Bla 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 Cazzo L'eserzo Il deserto Di là Non c'è più Vero Guardate Guardate Solo e puri Alberi Non ci posso Credere Solo e puri Alberi Io devo Procedere così Per miglia e miglia E miglia Perfetto Allora Proseguiamo davanti Perché tipo Cacca pupur E dobbiamo andare avanti Sennò Che cazzo Stavamo facendo Aspettare No Madonna Madonna Ok Sono le 5 e mezza 5 e 40 Diciamo E Io Boh Adesso devo Studiare Tanto siamo a 10 minuti Altri 5 E poi vado Studiato Mi tocca caricare tutto E vado a studiare Perché se no Domani Le prof mi killano Le prof mi killano Se no Grazie al cazzo Che vado al linguistico Perché si Io vado in terza media E grazie al cazzo Che vado al linguistico Se non studio Che Non studiare Ne hobby Ok Devo assolutamente mangiare Attendiamo Cazzo No Delcatamente Ora come cazzo Facendo Aspettate Forse è possibile Attutire No Non è possibile Ok Aspettate Sta laggando Ok Ma perché mi lagga Così tanto Aspettate Mi sta laggando Ok Che lagga Aspettate Faccio riavire un attimo il gioco Ok ragazzi Sono ritornato In fretta Cioè Mi laggava una bestia Oh ecco qua Possiamo uscire Un'utile E Sincia anche A farci un danno Vediamo un po' Per la madonnina Ricco però Bello Cazzo che bello Ci faremo una barchina Ok Abbiamo legna Ci dobbiamo legna Però Non mi va Inizia a farsi notte Che palle E Mi piacerebbe tanto Trovare Davvero pienuda Perché queste Sono montagne rocciose Aspettate Piazza qua Il lettino Che cazzo Cioè Non vedo piazza Sulle foglie Che figo Cioè Non che figo Che merda Perfetto Il mio letto È Sospensionario Ma che Ah Il letto 310 Ok Proseguiamo Velocizzamentemente E Troviamo Una bellissima gallina Yeee Una grotta Acuta Cazzo guardi Puttana Eh Non c'è un cazzo Guardalo Che stupido Non cazzo Da fare Così Venga Venga Vai Arna Nerdale Venga Tu sei Un po' Perfetto Perfetto Ho scoperto Che i polli Sanno Non Notare Ok C'è un ucchio Di zombie Qua sotto Cioè Ma è putticevo E porca puttana Non è neanche Cioè Non ho Cazzo Almeno io sono difeso Cioè Non sono indiferente Sono difeso Ok Ok Passiamo direttamente Non guardiamoli Che mi killano Tanto mi nutro Poi Poi Potrei graffitarmi L'armatura Di diamante Però no Ora che ho il diamante Devo pensare Cosa farci Con il diamante Cose importanti Più che altro Non Cazzarmi Come l'armatura L'armatura Ma a caso mai Me la faccio di ferro E ragazzi La pianura Ufficialmente trovata Ha proprio Quasi 15 minuti esatti Fiori arancioni Che belli Ma Non dovevo sti fiori Cazzo Va bene Ho trovato Cazzo Io non ho avuto Tutti sti fiori Cioè No Trovavo così Ok Perfettissimo Madonna Perfettissimo Non c'è di meglio Cazzo Non c'è di meglio La mucca No Che figo Uova L'olio Chigliamo le mucchine Le vacchine Le vacchine Le vacchine E qua sarà la mia dimora Ok Ho trovato il posto In cui dimorare Piazziamo Piazzichiamo Subito I nostri Oggetti Letto Banco da lavoro Poi poi metteremo In inglese E' meglio Da parola In inglese Ceste Mettiamoci tutto 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 Poi ovviamente Esplorerò Andrò in giro Che cazzo Non è che starò sempre a casa Dovrebbe senso Sto serie Ti si lo so E andiamo avanti Un attimino Piazzichiamo Lasciamo solo ste cose Perché è meglio E vabbè Andiamo un attimino Solo un attimo Lascio le cose E raccolgo Le cibarie Finale Perché Che cacchio Non possiamo Continuare così Aspettate un attimo Lascio Madonna Che cazzo Sto dicendo Ok Cosa volevo Le cibarie Cioè Nel prossimo episodio Vedete qua Tipo tutto spianato Tutto fico Tutto Tutto Fico Tutto Tutto Molto Fico Perfetto Ribalta la mucca Quante volte L'avevo ribaltata Ah Sono un pezzo Di pelle Tutte queste mucche Solo per un pezzo Di pelle Che cazzo Mi aspettavo Tipo tre Voglio farmi L'armatura Di pelle Giusto Che sia Di pelle Non di ferro Ma Quasi questo Me la faccio Di ferro Dai Parte un pezzo Dai Tipo Il cappellino Che mi piace Di pelle È Fico Che è Fico Ed è Per da pro K almeno Di pelle Guardate che bello Cioè Abbiamo là tutti gli alberi Però non abbiamo colti Quercia Non è problema Non è problema Andrò a cercare Le risorse Di quercia Più in là Che là ci sia Sicuramente qualcosa A parte il nulla Totale A parte il nulla Totale Ok Io ragazzi Ora stoppo Mi faccio Mi faccio solo Le fornaci Metto a cuocere Tutto Che cazzo Fotte No no Non ho cobblestone Che di solito Ho sempre Cioè Ho diamanti Ma non ho cobblestone Wow Ok ragazzi Questo video È durato più a lungo Del solito Madonna Mi sta caricando Questo Ok 45 Io ragazzi Vi saluto ora Perché la parte È terminata Ragazzi La parte è terminata E io Vi saluto Bye Bye Bye